Giuseppe Lamacchia Ok, 1, 2, 3, azione Nome Giuseppe Cognome Lamacchia Città Manfredonia Segno zodiacale Scorpione Ascendente Capricorno Allora, Giuseppe, dici qual è il tuo tallone d'Achille? La forza Ok Sei favorevole o contrario all'autonasia? Favorevole Cos'è l'autonasia, dici? Non lo so Vabbè, parliamo di inseminazione artificiale Sei favorevole o contrario? Favorevole Favorevole Cosa ne pensi del parto assistito? Sono favorevole, sì Favorevole, apposto La tua prima volta quanti anni è stata, Giuseppe? Ehm Diciassette anni Bandina Settiani Lei lo sapeva? Sì Ok Ti è piaciuto? Abbastanza A lei è piaciuto? Più a lei Dicci una roba Preliminari o subito al solo? Preliminari Preliminari Portati, no? Sì Ok, andiamo avanti Il tuo film preferito? Ehm Sì Il tuo film preferito? Onore e rispetto Perfetto L'ultimo libro che hai letto, Giuseppe? Non l'ho mai letto io Come non hai mai letto i libri? Neanche un fumetto? Ehm L'ultima roba che hai letto? Paperino Quelle cose là Paperino? Topolino? Topolino Perfetto Perfetto La tua donna ideale come te la immagini? Chi è? Ehm Alta, bella Presentabile Ok Sei fidanzato? No Ok Adesso facciamo un po' di domande di cultura generale Chi è il presidente della Repubblica Italiana? Ehm Monti No, come Monti Quello è il presidente Non è il presidente della Repubblica Il presidente di cosa? Monti Ehm Della Eh? Del Consiglio Perfetto Il presidente della Repubblica Italiana chi è? Inizia con la M Napolitano Non accettiamo suggerimenti Presidente degli Stati Uniti Chi è? Va B Inizia con la B B Niente Non mi dico Niente Allora facciamo una cosa Il tuo sogno è il cassetto Giuseppe? Lavorare in televisione Ok Cosa vorresti fare in televisione? Reality, film Quindi dici perché dovremmo prenderti per questo nuovo reality Perché un po' di talento ce l'ho E cosa facciamo? Vai facci un video Fai ridere? Oh Oh Ilse Ilanızzo Il 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 Takada, male e coni e coni Takada coni, piatto, piatto Takada, suonai modo come Takada, a tutti coni Takada, da bello i do Takada, ieri che troppo Takada L'argomento sarà sesso Quando siete pronti cominciamo Ok No, non è attraverso la musica Aspetta Allora, Giuseppe, forza Dai Bravo, quella è Allora, Giuseppe, la tua posizione preferita? La pecorino Ok Hai mai detto il kamasutra? No Cosa sai del kamasutra? La posizione principale del kamasutra, vai No, ci manca questo Cosa ne pensi del sesso orale? No, non ho mai provato Non l'ho mai provato? Né attivo né passivo? No Ok Con ingoio o senza? Senza Ti è piaciuto? No Ok Ti masturbi? No Mai masturbato a vita tua? Qualche volta La tua prima volta Ti sei masturbato? È stato bellissimo Ok Sei mai stato con una che ha fatto cilecca? Hai mai fatto cilecca? No, non mi hai fatto cilecca Ok Mai visto un film porno? Sì Ok Che protezione anticoncezionale usi? Niente Come niente? Non usi protezioni... Non usi preservativi? No No Niente? Così? Come capita? Ok Mai vinto l'orgasmo? No L'hai mai fatto sull'erba? Sì Hai mai fatto una orgia? Sì Sì? Quanti eravate? Una ragazza... Saluta ragazzi Saluta mamma e papà Un saluto mamma e papà in camera Ciao Facci lo spelling di queste parole che adesso ti dico Cielo La C La C La I La E La L La U Perfetto Scienza La S La C La I La U Poi? Scienza La N La Z La A Ok Facci lo spelling di acqua Come si scrive acqua? La A La Q La C La Q La U La A Ok Quindi la A La Q La C La Q La U La A Disquisizione La D La I La S La Q La U La I La S Va bene Fabrizio come si scrive la B La F La A La B La R La A Doppia B o solo una B? Solo una B Ok Vai 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 2 Z Ah 2 Z Perfetto Vai La O Ok 1 2 3 Azione Questa è la macchia energy drink Bevete questo dietro che vi fa dei muscoli come me No Non è Ghetered Ricominciamo Aspetta che faccio un po' questo lo voglio Bevete la macchia energy drink Ghetered non esiste Questa è la macchia energy drink Anche voi come me Bevete la macchia energy drink Poi fai un po' di interpretazione 3 2 1 Azione Fate come me Bevete Ehm 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 Ehm